Anche i membri della famiglia reale che indubbiamente hanno accesso alla migliore assistenza medica al mondo possono essere colpiti da certe malattie, ha dichiarato Maya Kennedy, una 38enne di Londra, in un'intervista al South West News Service, riflettendo sul cancro di Kate Middleton. Queste parole sono scaturite spontaneamente in quanto Maya stessa ha affrontato la stessa malattia della principessa del Galles. Quando sei una giovane donna in salute non pensi mai che ti possa succedere, ha aggiunto Maya, desiderosa di condividere la sua esperienza. Nel dicembre 2023 Maya si è rivolta al medico per una nausea insolita e cambiamenti nei movimenti intestinali, inizialmente attribuiti a problemi di reflusso acido, tuttavia dagli esami è emerso che c'era qualcosa di più serio. Sottoposta a una colonscopia è stata rilevata la presenza di una massa, successivamente la biopsia ha confermato trattarsi di un tumore precanceroso nel colon. Grazie per la visione!